Buon pomeriggio, siamo qui al campo sportivo Pino Buongiorno di Caltagirone in compagnia di alcuni esponenti della società delle Aquile Calatine che quest'anno, come sappiamo tutti, è stata ripescata nel campionato di promozione. Quindi posso presentare i nostri cari ospiti, abbiamo il segretario della squadra delle Aquile Calatine, Angelo Laspina. Buonasera. Grazie per essere intervenuto. Cristian Di Martino e Diletta Sirna che rappresentano l'ufficio stampa, l'addetti stampa delle Aquile Calatine. Ho detto bene, sì? Giusto, sì. Giustissimo. Ecco, io vorrei iniziare, diamo la precedenza a Angelo Laspina. Per l'età, per l'età. Io a parte di con l'età, io direi anche per un prestigio, perché quando parliamo di calcio a Caltagirone, ovviamente le figure più importanti, se mi permetti, torno sempre in mente quindi agli sportivi calatini, e quindi Angelo Laspina, Massimo Perise e Enzo Iudi, io mi permetto di dire questo, che è la verità, e quindi Angelo, ovviamente quando si parla di Caltagirone, il segretario è Angelo Laspina, quindi è una garanzia come segretario per le squadre dilettanti, quindi noi abbiamo la fortuna di averlo sempre con i nostri colori. Quindi Angelo, questa esperienza, quest'anno, dopo il ripescaggio? È un'esperienza nuova, diciamo che è il 35esimo campionato che faccio. Finalmente ho fatto tutti i campionati quelli dilettanti, dalla terza categoria fino alla serie D. Quest'anno stiamo iniziando questo campionato di promozione, già siamo arrivati alla settima, ottava giornata. Onestamente mi aspettavo un campionato più forte, più energico. Nel nostro girone ci sono due o tre squadre già organizzate per poter vincere il campionato, però vedendo la classifica noi abbiamo sei punti di distacco, basti pensare che abbiamo perso due partiti in casa, una magari con demeriti, una invece per poca fortuna, quindi siamo lì. Quindi lo scorso anno il campionato di prima categoria, i play-off, poi questo ripescaggio, quindi finalmente la città di Caltagirone dopo tre anni circa, se non mi sbaglio, riacquista il titolo del campionato di promozione, quindi ci misureremo con squadre come il Raguse, il Vittore. Ma secondo te, la nostra squadra, ovviamente come nomi, è una squadra importante, quindi è giusto che si dica... E Caltagirone è importante. È importante, a parte questo, però sto dicendo che è una squadra che si deve accontentare solo di una semplice salvezza, oppure puoi ambire magari al traguardo dei play-off, secondo te? Ma guarda, il discorso dei play-off, il torneo è lungo, e durante il torneo, durante le trenta partite, possono succedere delle cose veramente che tu non puoi avere idea, quindi ogni partita fa testo a sé. Noi abbiamo la consapevolezza, abbiamo il buon senso di fare la partita, ogni partita, se riusciamo a vincere, è sempre un gradino in più che tu hai, altrimenti pazienza. Ci sono squadre veramente forti, città importanti, come Atrano, Paternovo, come hai detto tu, Vittoria Ragusa. Diciamo che ci ricorda la vecchia Serie D di un 5-6 anni fa, o 10 anni fa addirittura. Ci mettiamo l'impegno possibile, sia la società, sia i ragazzi, sia tutti i collaboratori. Speriamo bene. Ecco, io per concludere, dicevo questo, pensavo anche prima di questa intervista che stiamo effettuando, il cambiato di promozione è sempre un cambiato impegnativo, quindi il fatto stesso che non abbiamo lasciato il cambiato di prima categoria è già importantissimo, solo che magari la società sta appuntando sicuramente a un programma biennale, per il ritorno magari in eccellenza. Ma che posso dirti? Noi intanto siamo qua, facciamo questo torneo, il prossimo anno non si sa cosa succede, puoi essere in eccellenza, puoi rimanere in promozione, come può andare tutto a malora, perché purtroppo i direttanti, le leggi nuove che ci sono in questi tornei sono molto cambiate, e di conseguenza i costi sono molto alti. Bisogna vedere se la società, anzi devo ringraziare tutti coloro che danno un piccolo contributo a questa società per poterci gestire, perché basti pensare che per andare in trasferta ci vuole il pulmone, il pulmone costa, per andare a pranzo con la squadra costa, e devo ringraziare il ristorante Floriano che veramente ogni anno ci dà una grossissima mano. Quindi bisogna vedere le risorse economiche che il prossimo anno si possono avere. Intanto pensiamo a oggi, pensiamo a completare dignitosamente questo torneo, poi si vedrà. Ecco Angelo, un'ultima battuta, domenica un proprio imminente impegno a Ragusa, quindi una sfida che sarà disputata sul campo di Ragusa, non nel Selvaggio, ma è il campo che proprio si trova al centro, il campo biazzo di Ragusa, Ex-Enel, quindi al centro di Ragusa, e con l'impegno con la città di Ragusa. Quindi questa è una partita, diciamoci la verità, perché non sono più i vecchi. Si è perso magari quel fascino di una volta, che richiamava il grande pubblico quando si incontravano le due compagni, bianco-azzurra e bianco-rossa. Però rimane seppur sempre una bella sfida di vecchi ricordi, quindi domenica Ragusa-Aquile-Calatine, Lavaccara in panchina nella squadra Iblea e siamo il buon compagni della nostra panchina, i due hanno allenato entrambi il Santa Croce, quindi si conoscono abbastanza bene, quindi sarà una bella partita, anche se qualcuno, ovviamente anche in questi campionati si fanno dei pronostici, non siamo nei grossi campionati, ma comunque si fanno sempre dei pronostici, la favorita giustamente danno sempre per il Ragusa, anche perché il Ragusa è la candidata alla vittoria finale, anche perché nella squadra Iblea militano diversi giocatori del calibro di Fratelli Arena, Vendigni e alcuni giocatori, per citarne alcuni, quindi una squadra costruita perché il Ragusa ovviamente ha fame di calcio, peggio di che Altaginosa, se la vogliamo dire così, e quindi un Ragusa che ovviamente l'unico obiettivo è portare la squadra Iblea in eccellenza, quindi un impegno difficile, come lo vedi tu domenica? Come una partita normale, ricordati che in Serie A il Cagliari è andato a stanziare, ha vinto contro l'Inter, che l'Inter è sicuramente molto più forte del Cagliari, quindi noi se vince Ragusa è giusto che ci stia, se vinciamo noi per noi è un espluato. Speriamo, ok, ringrazio Angelo Laspina e ci sentiremo sempre alle prossime. Un immenso piacere, grazie. Io do la linea, diciamo la linea, invece la palla, come si usa in questi casi, a Diletta Sirna, a detto stampa delle acule calatine, quindi la prima esperienza come ha detto stampa in questa società o in altre società? No, no, la prima esperienza, infatti volevo ringraziare la dirigenza, soprattutto Massimo Parisi perché mi ha dato questa opportunità. Vivendo con la squadra a contatto, comunque anche a danni di trasferta con loro, sto capendo i vari meccanismi che ci sono nel mondo del calcio proprio come ufficio stampa e poi ho anche dei colleghi formidabili, ecco qua, come Cristian al mio fianco e quindi spero di fare un buon lavoro e di non deludere nessuno soprattutto. Ecco, Diletta, prima esperienza appunto capita con il cambio di promozione, quindi fa piacere sempre a parte avere un addetto stampa in gamma come te, ma la presenza femminile in una società secondo me è anche un tocco pure, ci permette di fare anche il salto di qualità, secondo me perché a livello logistico è anche importante e quindi questo fa capire che la società delle acule calatine è ben organizzata, ha curato questo aspetto importante e sta dando un messaggio secondo me logistico importantissimo a livello di organizzazione, quindi è già una cosa bella vedere questa organizzazione della società così perfetta e curata che è difficile anche dalla promozione. Programmi imminenti, cosa state organizzate? Ho saputo in giro che state preparando qualcosa in caso in cui finalmente il campo ritorna a essere agibile alla tifoseria? Ma intanto speriamo che questa questione dello stadio inagibile si risolva molto presto perché vedere i tifosi comunque sugli spalti che poi non sono spalti perché si mettono lì non è una bella cosa, noi li vogliamo tutti qui in campo e a sostenere la squadra. Ci sono diverse iniziative, magari Cristian è più, vi ho ferrato sotto questo punto di vista perché gli Ultras lui li conosce un po' meglio rispetto a me, però abbiamo tante idee perché vogliamo far appassionare sempre di più i calatini a questa squadra e vogliamo il supporto della gente. Ok, proprio Cristian, di Letta ti dicevi il fatto degli Ultras, ci sono novità oppure alla riapertura del campo, non so com'è la situazione, se ci puoi dare notizia, anche molti tifosi domandano come mai ancora anche la partita vinta domenica 3-2 con la trenera purtroppo è stata giocata a porte chiuse. Ora c'è questo doppio turno con Antonio, c'è la possibilità dopo queste due partite nella prossima gara interna di avere l'accesso al pubblico? Ma intanto grazie per l'invito e ringrazio Di Letta per i complimenti di prima. Non si sa, poi davanti alle questioni burocratiche ci sono sempre, sappiamo com'è la situazione, quindi di conseguenza andiamo con i piedi di piombo e vedremo nel prossimo futuro. Per quanto riguarda la questione del tifo organizzato, io mi sono occupato del fenomeno, io adesso non posso, questa è una passione che ti nasce dentro, se vuoi seguire, segui comunque. Dunque, certo, avere la possibilità di una tribuna dà maggiore disponibilità. Io mi auguro che con i risultati, con la serietà che stiamo cercando, stiamo tentando di dimostrare, ci sia un avvicinamento da parte della tifoseria, io me ne rendo conto anche per strada che c'è un interessamento, naturalmente dopo tanti anni di buio, torniamo un pochettino a far parlare della città di Caltagirone. Abbiamo e dobbiamo ringraziare la famiglia Sinatra che ci dà l'opportunità di giocare in questa struttura, visto che la Giselao Greco, dimenticato dai vecchi amministratori e forse dimenticato anche dai amministratori di un passato più recente, ci auguriamo che i nuovi amministratori possano finalmente risolvere questa piaga, questo scempio, perché in effetti quello stadio ormai non è altro che diventato un parcheggio il sabato per il mercato e all'interno non so chi ci faccia attività fisica perché sinceramente non credo che sia idoneo, ma è un mio parere, naturalmente non sono un tecnico, non posso dire di più. C'è un grande interesse per la nostra squadra, si nota, si vede come diceva Diletta, che la gente si mette sopra i palazzi, sopra un'aiuola, dalla parte di un'aiuola comunale per vedere la partita, quindi giustamente l'interesse c'è, speriamo di risolvere quanto prima questo problema e di rientrare nella normalità perché noi chiediamo la normalità, non vogliamo niente di eccezionale. Come dicevo con Angelo Laspina, tornato al discorso prettamente calcistico, siamo tornati finalmente in promozione, meritatamente e quantomeno il primo anno mantenere la categoria con alcune soddisfazioni, già questa è importante, per proiettarsi poi magari in un futuro se ci sono le condizioni, speriamo di sì, di portare la squadra nel massimo campionato regionale. E speriamo. E dico tu in prossimità di questo derby che tra poco ci apprezziamo a giocare, questo derby di domenica, dico ne hai viste tante Caltagirone e Ragusa, ora Aguille Calatine e Ragusa ma siamo sempre lì, quindi che sensazioni stai vivendo ora come dirigente, come ha detto Stamba all'interno di questa società? L'abbiamo vissuto anche io in primis, come tifosi, nell'organizzazione da tifosi dei vecchi tempi, come la stai vivendo questa vigilia di questa partita, come da dirigente? Le sensazioni sono diverse, ma i tempi cambiano, tutto cambia, quindi cambiano anche i sentimenti, quindi di conseguenza io la vivo diversamente rispetto al passato, però per storia, per tradizione, il Caltagirone e Ragusa, seppur la nostra denominazione per quest'anno è Aguille Calatine, è sempre una partita comunque diversa rispetto a un Caltagirone X squadra. Sì, mi vengono in mente tanti derby, questo per noi credo che sia un derby, quindi la sensazione è sempre bella, è sempre di attesa, di passione, certo, da dirigente la vivi in maniera diversa, perché da dirigente vivi lo spogliatoio, vivi tante altre cose, da tifoso vedi solo il risultato e basta, quindi sensazione positiva, piacevole, magari ad avere sempre derby. Diletta, la squadra come si sta preparando? Il mister per motivi personali non l'abbiamo qui, comunque tu sei addentrata alla squadra, quindi come si sta preparando a questa importantissima sfida di Dominica Ragusa? Io sono stata qui ieri perché c'è stato l'allenamento, purtroppo mancherà in avanti Vittoria perché domenica ha avuto un piccolo problema muscolare, quindi probabilmente non ci sarà. Per quanto riguarda gli uomini in campo, poi è Samuel che decide ovviamente chi schierare, però li vedo concentrati, vogliono far bene, sappiamo che lì è un campo tosto perché è una grande squadra che appunto come obiettivo ha l'eccellenza, però non partiamo già sfavoriti perché altrimenti gliela diamo vinta subito, quindi andiamo a fare la nostra partita, speriamo bene, però ripeto i ragazzi sono concentrati e vogliono far bene, soprattutto poi dopo la prestazione di domenica vogliamo continuare a fare punti. Dopo Ragusa c'è un'altra trasferta da Cisandandone, quindi come le vedi queste due partite? A parte Ragusa, dico, a Cisandandone, almeno tornare in casa cercando di capitalizzare il più possibile le due trasferte consecutive? Sì, magari adesso domenica vediamo proprio perché è forte il Ragusa, quindi ci dobbiamo andare anche con i piedi di piombe e ragionare bene durante la partita. L'altra trasferta, sono due consecutive, speriamo di ottenere punti anche perché vogliamo tornare in casa, vogliamo tornare con almeno qualche punto preso e poi soprattutto vorremmo trovare anche i tifosi qui sugli spalti. Ecco, io faccio i complimenti a entrambi perché veramente ce la mettete tutti e quindi è una cosa bellissima che state facendo, quindi vi ringrazio anche come tifoso, come città di Caltagirone e come televisione per quello che fate per i nostri colori. E si voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere, prima Cristiano parlava che comunque molte persone ci stanno seguendo, soprattutto sulla pagina Facebook anche che è gestita da Giuseppe Zago, dove troverete tutte le notizie del Caltagirone, anche alcune interviste che stiamo facendo ai testerati e quindi c'è l'entusiasmo, c'è e si vede. Ecco bene, io ringrazio Diletta Sirna e Cristiana Di Martino dell'Ufficio Stampa, ha detto Stampa delle Aguile Calatine, speriamo di riavervi nelle nostre prossime anteprime sportive, sempre per il commento di quello che è stato e della presentazione dell'imminente fine settimana, quindi vi saluto, buon lavoro e forza Caltagirone, speriamo bene per domenica. Ecco, siamo in compagnia di Giuseppe Giangrandi, lo conosciamo tutti a Caltagirone, ex capo Ultras della tifoseria bianco-rossa, con lui potremmo stare anche, non un'ora col camera, ma anche tre ore, perché potremmo raccontare un sacco di cose, è stato, lo dico sempre, anche alle sue spalle, è stato veramente un pilastro della tifoseria bianco-rossa organizzata degli Ultras, con lui quest'anno invece nelle Aguile Calatine, come ha detto alla sicurezza. Giuseppe, la prima domanda, come ti trovi innanzitutto in questo ruolo, non sei più capo Ultras ma all'interno della società? Ma di più ci do una mano d'aiuto a questa società, anche per risollevare questa città che un pochettino dorme, cercare di fare qualcosa per migliorare la nostra città e far risorgere un pochettino di calci a Caltagirone, con la speranza che qualche domenica si possa entrare, ci possiamo divertire tutti quanti, perché c'è un pochettino di malumore per il motivo che non si entra, purtroppo dobbiamo cercare di risolvere questo problema e cercare di divertirci tutti quanti, la squadra ce lo permette, ce lo permette anche la società, cerchiamo di divertirci, ci possiamo fare. Allora Giuseppe, domenica il Caltagirone delle Aquele Calatine giocheranno a Ragusa, questa partita che ormai ovviamente è un'altra partita, quelli sono i ricordi del passato, però ci fa venire in mente tante sfide importanti, dove tu in prima linea organizzavi coreografie con gli Ultras, dico che ricordi, qualche ricordino che ti viene in mente di questa partita? Ma tu lo sai, i ricordi quando ci sono i derby ti portano sempre belle cose, ci siamo divertiti giocando con Ragusa, poi tu lo sai, nei derby è sempre bello in entrambe le parti, l'importante è divertirci, non fare succedere niente, perché logicamente al campo si viene per divertirsi, io vedo che certe persone si ammazzano per il pallone, vi dovete ammazzare per il lavoro, non per il pallone, per il pallone si ammazzano le persone ignoranti. Ecco questo è un messaggio importantissimo, complimenti, perché è la verità, quindi per le cose più importanti, per il calcio, lo sport è bello, poi alla fine o vince il Ragusa o vince il Caltagirone, noi giustamente da sportivi calatini ci auguriamo che sia la nostra squadra a fare il risultato, però indipendentemente da questo è una bella partita a Ragusa, poi ci sarà il ritorno qui a Caltagirone, c'è la possibilità anche che possiamo incontrare il Ragusa in Coppa Italia, perché entrambe le squadre siamo tutte e due agli ottavi, e quindi questa è la cosa più importante. Ecco Giuseppe, tu domenica sarai presente a Ragusa? Ma forse se posso venire vengo, se non posso venire pazienza, sarai per un'altra volta perché ho degli impegni, ma spero di esserci. Ecco, l'ultima domanda Giuseppe, ha detto alla sicurezza, ogni domenica quindi ti impegni, è difficile questo ruolo oppure riesci tranquillamente a svolgere? Ma no, riesco facilmente a risolverlo perché oltre noi ci sono anche le forze dell'ordine, c'è un bel servizio a Caltagirone, cerchiamo di non fare mai succedere niente perché torno a ripetere, le persone che si ammazzano con il pallone sono gente ignorante perché uno si deve ammazzare per il lavoro, è per i diritti che ci toccano, non per il pallone, il pallone è un passatempo, entrambe le parti di tutte le diffuserie, si viene allo stadio per passarsi due ore di tempo, magari prende un caffè fra amici e divertirsi, per me è questo, poi per gli altri non lo so. Ecco quindi è un messaggio che lancia Giuseppe Belli, è perfetto, lo prendiamo al volo, quindi ecco tra gli sportivi di Caltagirone e Ragusa, alla fine poi chi andrà a Ragusa non mi fa la partita, alla fine tutti dopo il trepice fischio finale, qualsiasi risultato è bello socializzare, quindi perché no insieme ai tifosi Ragusa ne prendessi un buon caffè, che ne pensi Giuseppe? Ma io ti dico una cosa, noi con Ragusa abbiamo un bel ricordo, con un grande giocatore, Tuccitto, che spero che lo possa salutare a Ragusa, che è uno dei più grandi giocatori che abbia avuto il Caltagirone. Ok, con questo abbatto di Giuseppe che fa piacere, quindi ricorda anche gli avversari del ex presidente del Ragusa, Tuccitto, speriamo poi prossimamente con la scusa che si risolva questo problema e che la tifosiria possa ritornare allo stadio e riavere anche un po' di tifo, torneremo poi a parlare con Giuseppe sicuramente, le prossime volte ci darà il piacere sempre di poterlo intervistare e io insieme a Giuseppe salutiamo i nostri telespettatori e forza sempre Caltagirone. Forza Caltagirone e forza Sicilia, che ne abbiamo di bisogno. Io per concludere la nostra anteprima sportiva, ribadisco che domenica scorsa le Aguile Calatine hanno battuto in casa, qui al Pino Buongiorno e Ladrano per tre reti a due, nel weekend trascorso dei campionati e l'Eubea invece si è imposta sabato a Mascaluccia, col fanellino di coda a Mascaluccia, domenica giorno, fino all'ultimo 29, domenica anzi 30 scusate, l'incontro delle Aguile Calatine a Ragusa, l'Eubea invece riceverà allo stadio comunale di Lico di Ubea l'Atletico Catania. Questo per quanto riguarda il campionato di promozione, per la prima categoria, ahimè, le cose non vanno bene a Militello per la squadra del Dottor Gambera, che purtroppo non è partita bene, auguriamo alla squadra di Militello, che è l'unica che ci rappresenta nel campionato di prima categoria di risalire la china, quindi un in bocca al lupo alla squadra giallorossa del Presidente Lucio Gambera. Noi ci risentiremo, come sempre, nel prossimo fine settimana per altre novità della nostra città. Una buonasera a tutti. Grazie a tutti.